l'emozione improvvisa come quando la musica ti rapisce e ti fa battere il cuore l'eccitazione del primo incontro è uno sguardo fugace il sentimento è l'amore di chi ama ed è amato genera uno stile di vita come l'abbraccio del tango noi abbiamo fatto di questo grande sogno prima un'emozione e poi un sentimento abbiamo accompagnato i vostri passi il vostro cuore la vostra anima con generosità e amore se desiderate riabbracciare la nostra musica alla fine di questo lungo periodo potete sostenerci acquistando un'opera unica registrata in questo periodo storico 40 tracce contenenti tango balse milonga nello stile tipico del quartetto peciuco questo ci permetterà di far sopravvivere questo grande sentimento e tornare presto da voi siamo il tango e la musica sostiene sostiene soliti sostenete la nostra musica grazie a tutti 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 grazie a tutti